del re dell'associazione Centro Studi Naturalistici ONLUS, ritira l'attestato il dottor Matteo Orsino e il direttore dell'OASI Laguna del Re. Grazie. Dunque le motivazioni per questa mozione speciale sono per l'esemplare capacità di restauro paesaggistica ambientale di una zona umida costiera di 40 ettari, un tempo valle da pesca, parte di un vasto sistema di zone umide, per il ristabilimento della legalità, minata dall'abusivismo edilizio e dall'occupazione illegale dei terreni, per il ripristino della funzionalità ecologica e idraulica dell'area e la generale riconfigurazione di ad oasi naturalistica aperta alla fruizione del pubblico, per la sinergia attivata tra soggetti istituzionali che hanno saputo sviluppare partenariati virtuosi in grado di convogliare finanziamenti europei, per il ruolo fondamentale e propositivo dell'associazionismo ambientale rivolto alla valorizzazione delle polietriche valenze paesaggistiche ambientali e sociali. Io credo che questo progetto ci abbia come cosa particolarmente innovativa, che vediamo nella rassegna di tutti i progetti, che molti sono nell'entroterra, cioè sono legati molto all'agricoltura, a quel paesaggio, a quell'ambiente, pochi sono quelli che invece si occupano delle fasce costiere e tra quei pochi voi siete tra i migliori ovviamente, infatti, quindi avete fatto un ottimo lavoro anche nella capacità di coinvolgere tutti i soggetti che in qualche maniera potevano essere sensibilizzati e avete fatto una nuova architettura del paesaggio, perché è bellissimo il paesaggio così da voi restaurato e ristrutturato, coniugando la tutela ambientale, la valorizzazione ambientale, il restauro ambientale con quello del paesaggio, il paesaggio inteso in tutte le sue caratteristiche. Complimenti. Grazie. Prima è stato ricordato come per tanti anni la tutela della natura e degli ecosistemi in Italia era costituzionalmente tutelata dall'articolo 9 tramite la tutela del paesaggio. Noi effettivamente siamo partiti con questo progetto con l'obiettivo di ripristinare un habitat che era quello delle lagune costiere, un habitat particolarmente minacciato in Italia, ma nel corso dei lavori ci siamo resi conto che stavamo facendo anche un restauro paesaggistico di un paesaggio che era andato perduto da molti anni. Dovete tenere presente che quest'area era stata abbandonata per decenni, occupata abusivamente anche con delle costruzioni e quindi il lavoro che è stato fatto è consistito prima nel riappropriarsi di quest'area, nella demolizione dei fabbricati abusivi e poi nello scavo, letteralmente abbiamo scavato 20 ettari di terreno per riportare l'acqua dove una volta c'era ed era sparita. Questa è una chiave di lettura. Un'altra chiave di lettura appunto è il ripristino della legalità in una terra, la provincia di Foggia che purtroppo in questi anni è conosciuta più per la criminalità organizzata che per la bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi ecosistemi, la bellezza e la ricchezza dei suoi ecosistemi. Noi purtroppo in molti casi dobbiamo scontare l'indifferenza delle istituzioni locali e talvolta anche una certa ostilità verso questo tipo di iniziative, però in questo caso così non è stato per la regione Puglia che sin dall'inizio ha sposato il progetto e ha assunto il coordinamento del progetto e lo ha anche cofinanziato, è il consorzio per la bonifica della Capitanata che ha messo a disposizione quest'area e ha realizzato i lavori. Tra l'altro segnalo il fatto che un consorzio di bonifica ha sbonificato l'area sostanzialmente. Quindi ci sentiamo di condividere questo premio sia con il dottor Giovanni Zaccaria della regione Puglia che i funzionari tecnici e gli operai del consorzio per la bonifica della Capitanata, nonché delle associazioni Downia Tour e Fare Natura che in questi anni ci stanno aiutando a tenere aperta l'area e a realizzare tante iniziative. Non mi resta che invitarvi a visitare la nostra provincia Bellosi Laguna del Re. Grazie.